Lei non può dare la colpa agli altri se non votano lei, perché non si rivolgono a voi? Giovanni Floris lo ha chiesto alla segretaria del PD Ellis Klenna di martedì sulla 7 Inizialmente spiazzata, la leader dei ma poi risposto, questo è vero, però io credo che da un lato ci sia la propaganda governativa, dall'altro la realtà dei fatti, certificata anche da Eurostat, che dice che il 63% delle famiglie italiane fa fatica ad arrivare a fine mese Secondo la Sklen, alla fine gli elettori perderanno fiducia nel governo Meloni e nel centrodestra in generale E solo a quel punto il centrosinestra potrà avere delle possibilità. Dunque l'opposizione spera di emergere non per delle proprie proposte o una propria linea che possa piacere all'elettorato, ma solo a seguito di un eventuale fallimento dell'attuale esecutivo Ci vorrà un po' di tempo, perché questa manovra dove tagliano sanità pubblica e pensioni, proprio loro che ce l'avevano con la Fornero, dimostra che stanno tradendo tutte le loro promesse, quindi secondo me gli italiani non si faranno prendere in giro, questo è il ragionamento della Sklenna Stanno tradendo ogni promessa fatta e questo poi lo pagheranno anche in termini di consenso Stanno tradendo ogni promessa Grazie a tutti